Ecco a voi il CIRFOOD DISTRICT, un'architettura che respira in continuità con il paesaggio, circondata da un'area verde di 7.000 metri quadri per attività open air, nel cuore della Food Valley. Qui si osserva il presente per immaginare il futuro. Qui si fa ricerca e si innova, si progetta, si sperimenta e si condivide. Come? Scopriamolo insieme! L'Agora è il luogo dove tutto ha inizio. Spazio di incontro e cultura, dove ospitiamo eventi, percorsi di alta formazione e conferenze. Qui si trova La Nuvola, l'installazione artistica progettata dallo studio Gioforma, che dà il benvenuto e introduce al viaggio che si sta per intraprendere. Ciò che rende il CIRFOOD DISTRICT unico nel suo genere è il sistema integrato di ricerca gastronomica, realizzato in collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Tre spazi distinti che interagiscono tra loro per creare un sistema di ricerca e sperimentazione nell'ambito della nutrizione e del food service. Partiamo dal laboratorio sensoriale, dove l'esperienza del cibo viene analizzata e interpretata grazie al coinvolgimento di tutti e cinque i sensi. C'è poi la cucina sperimentale, dove vengono testate nuove tecniche di cottura, ricettazione e conservazione degli alimenti. Un luogo di condivisione, dove è possibile svolgere attività di formazione e team building. Infine il ristorante sperimentale, dove oltre al menu e alle ricette si osservano i comportamenti e le tendenze di consumo in relazione all'ambiente e alle modalità di servizio. Ma il CIRFU District è molto di più. All'interno dell'area 5.0 è possibile sperimentare nuove tecnologie per la ristorazione, che utilizzano l'intelligenza artificiale e l'innovazione digitale per garantire uno sviluppo più sostenibile. Infine è presente un'area co-working, luogo di progettazione e cooperazione, dedicato a ricercatori, studenti e start-upper. Perché il futuro e di chi ha il coraggio di immaginarlo? Questo è il CIRFU District. Vieni a viverlo insieme a noi.